SpixItalia SpixItalia è un'azienda che dal 1982 opera nel settore della sanificazione ambientale, offrendo servizi caratterizzati da tecnologie all'avanguardia. Lo staff operativo è costituito da un team di biologi e disinfestatori qualificati, in grado di offrire alla nostra clientela una consulenza specifica. SpixItalia rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per la disinfezione, terratizzazione e disinfestazione, ma soprattutto per la più moderna e complessa concezione di pest management, requisito fondamentale negli standard di qualità e sicurezza, BRC, IFS e GlobalGET. La Spix opera per garantire la massima sicurezza dei trattamenti proposti, ripone grande attenzione al benessere animale, al rispetto delle specie vegetali e a non cagionare contaminazione chimica negli ambienti e nei prodotti finiti. L'obiettivo è raggiunto minimizzando l'utilizzo di prodotti chimici, privilegiando sistemi avanzati di lotta biologica e di pest proofing. Tutti gli interventi sono conformi a quanto disposto dalla normativa per la qualità, ai disciplinari tecnici di produzione e ai regolamenti 834 e 889 per il biologico. Spix Italia è un'azienda certificata ISO 16636, norma di qualità per i fornitori di servizi di gestione e controllo delle infestazioni al fine di tutelare la salute pubblica, i beni e l'ambiente. Tra le certificazioni, la Spix possiede anche la ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Contattando la Spix Italia, ogni problema sarà studiato, affrontato e risolto con successo. Grazie. Grazie.